Sono felicissimo, per me è un onore essere a Bari, città bellissima e un tifo caloroso. Non vedo l'ora di cominciare. Si è presentato così il nuovo numero uno bianco-rosso Emanuele Polverino. L'ultimo acquisto in ordine di tempo del Bari si è detto contento per una chiamata quasi inaspettata del DS Polito e motivato a dare il massimo. Questo è un gruppo ambizioso, ha evidenziato il nuovo portiere del Bari. Con calciatori importanti, io non posso che crescere e migliorare lavorando al fianco di un portiere fortissimo come Frattali. Se capiterà l'occasione mi farò trovare pronto, spero davvero di fare bene. Bisogna essere sul pezzo, ha concluso Polverino, stare sveglio, attento. Negli anni qualche momento difficile è capitato, ma mi sono sempre ripetuto di non mollare mai. Questa nuova sfida ne è la prova. Polverino sarà quindi il vice Frattali dopo che i bianco-rossi hanno ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Napoli di Davide Marfella. Per l'estremo difensore classe 99 che ha passato le ultime tre stagioni a Bari, si tratta di un ritorno in azzurro.